Radio più Roma presenta Pillole di musica e liturgia, un programma di Agostino Maria Greco a cura della parrocchia San Giuliano. Un altro pilastro della riforma liturgica del Vaticano II è quello della partecipazione. Anzi forse possiamo dire che è stato lo scopo della riforma liturgica stessa, per cui potremmo concludere che sarà la partecipazione dei fedeli che ci dirà se la riforma liturgica si è riuscita o meno. A onor del vero il tema della partecipazione alla liturgia viene citato sia da Papa Pio X nel motu proprio tra le sollecitudini del 1903, sia da Pio XII nell'enciclica Mediator Dei del 1947, entrambi sollecitati dalla riflessione che già alla fine del XIX secolo il movimento liturgico aveva fatto. In entrambi i casi però la partecipazione è intesa come un intimo contatto dell'anima e non è legata al rito. Il Concilio Vaticano II invece pone la partecipazione come derivazione della natura stessa della liturgia. La partecipazione infatti è descritta come la via per la fruttosità della liturgia stessa. Sacrusandum Concilium insiste sulla partecipazione interiore ed esteriore, che è il vero nodo della questione. Ciò perché si ha l'impressione che la partecipazione consista nel far fare qualcosa all'assemblea pur di tenerla attiva. Come scriveva qualcuno, si ha l'impressione che si cerchino sempre nuove maniere di celebrare, mentre in verità si è dimenticato che cosa si sta celebrando. Partecipare significa primariamente entrare con tutto se stessi, corpo e spirito, nel mistero di Cristo. Non è moltiplicando le parole, i canti, i gesti che si ha una più intensa partecipazione. La partecipazione avviene anche nel silenzio, nell'ascolto, nella preghiera comune, nei gesti che insieme si compiono. Uno dei testi più importanti di Sacrusandum Concilium, il numero 48, dice che la Chiesa non vuole che i fedeli siano estranei e muti spettatori, intervenendo alla celebrazione del mistero della fede. Fatto questo, suggerisce subito quale sia l'atteggiamento corretto, dicendo che i fedeli debbono comprendere bene il mistero, non i riti nella loro esteriorità, ma nel loro contenuto oggettivo. Questo va compreso attraverso i riti e le preghiere. Per ritus et preces, dice il Concilio. E questa è la maggiore novità della riforma liturgica del Vaticano II, dicendo che i riti e le preghiere della liturgia sono il modo per arrivare alla comprensione del mistero. Si tratta quindi di un modo diverso di concepire la partecipazione. Una partecipazione che deve essere consapevole, pia e actuosa. Actuosa quasi sempre viene tradotta in modo inesatto con attiva. Il Concilio però non utilizza la parola latina attiva, ma la parola latina actuosa. La differenza è rilevante. Attiva vuol dire che pone in attività. Actuosa significa invece che la piena partecipazione avviene attraverso un contatto con l'atto liturgico del mistero pasquale. Partecipazione actuosa non significa quindi allora show, non significa in generale dell'attivismo sfrenato nell'assemblea liturgica, e neppure scadere in quel comunismo livellante che vuole tutti uguali e necessariamente impegnati allo stesso modo. Ma partecipazione vuol dire promuovere una ministerialità il più possibile diffusa e qualificata, dove ognuno ha la sua vocazione e competenza e in forza di ciò esercita il suo servizio.